Si è riuscito a vederlo anche molto nel dettaglio? Si vede proprio che si sta mangiando le zanzare Lascia così Allora, mi sa che mancano pochi minuti Quindi, considerando che gli adulti, secondo me, possiamo anche evitare di farvi vedere Sono delle normali zanzare Si, guarda Si può stare la lastra sulla rumaca No, non sono aperte Inquadra la testa Le listelle che vi ho dato io Anzi, posso riprenderle E invece le poste Se avete piacere, me le potete lasciare se ci avete scritto solo quelle indicazioni Per capire di chi sono Dovresti fare il video delle racconte Aspetta, ti metto le altre cose schifose E poi io con un po' di calma le guardo in laboratorio E magari potete vedere che una positiva c'era Basta, dai No, queste le vendo a un ristorante cinese e ci faccio soldi Ma se le sta proprio mangiando Si Io vi trappole aveva detto che serviva Guarda, infatti lì dentro, guarda, questa qui è una larva Si, lo so L'ha ingruppata Leo tu non hai Traditore Basta, basta